I ristoranti toscani piacciono anche in rete, dove collezionano recensioni positive su portali di viaggio e social media, ma sono ancora pochi i ristoratori che riescono ad avere una presenza davvero efficace su internet, che porti clienti e li fidelizzi. E' questo il risultato dell'indagine condotta da Confcommercio Toscana su 458 ristoranti associati a Fipe, che fanno parte della rete Vetrina Toscana, il progetto promosso dalla regione per valorizzare le tipicità e le tradizioni dell'offerta ristorativa regionale. La Vetrina Toscana, insieme all'associazione di categoria, ha fatto un lavoro importante in questi anni e noi abbiamo necessità di monitorare gli effetti. Cosa abbiamo fatto bene e cosa possiamo far meglio? Abbiamo fatto bene una progressiva, diffusa introduzione della comunicazione web nei punti di ristoro. La gran parte dei nostri punti di ristoro sono capaci di raccogliere prenotazioni online e sono presenti con siti non sempre di qualità sui siti di comunicazione. Manca però la capacità di essere interattivi e per un'azienda non cogliere l'occasione del dialogo online con il proprio utente significa non cogliere gran parte dello spessore che potrebbe essere generato da questo tipo di nuova comunicazione. Secondo l'indagine presentato oggi a Firenze, l'80% dei ristoranti ha un sito internet, ma ancora pochi, riescono a presenziare i social con tempestività ed efficacia. Solo uno su due, ad esempio, aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Le recensioni su TripAdvisor invece sono molto positive. I ristoranti di vetrina toscana sono apprezzati soprattutto per la cucina, dalle particolarità dei piatti presentati all'alta qualità delle materie prime. I nostri ristoranti sono tradizionalmente, medialmente, molto molto bravi nel fare il loro mestiere, cioè nella cura del prodotto, della presentazione. Sono un po' meno bravi nell'accreditarsi e nel presentarsi con gli strumenti moderni di comunicazione. Un tempo c'era anche un po' di diffidenza, una dicotomia netta tra chi era bravo in cucina e chi era bravo a presentarsi. Da parte del consumatore c'era anche diffidenza verso chi aveva troppo bisogno di pubblicizzarsi. Oggi il mondo cambia ed essere bravi sul prodotto non basta. Attenzione ai bisogni dei clienti, menù sempre più flessibili e ingredienti freschi sono il vero valore aggiunto dei ristoranti di vetrina toscana che ora devono migliorare la loro presenza su internet imparando a dialogare di più con i clienti passati o potenziali sui social network. Questa consapevolezza proprio della ricerca di informazioni da parte di qualsiasi utente prima di scegliere un bene o un servizio è diventata oggi proprio la sfida che noi stiamo cercando proprio di condividere con la regione, con vetrina toscana a tavola facendo proprio della qualità dei prodotti, dei produttori il punto di forza in cui si crea quella unicità che dobbiamo essere più bravi a raccontare. È inutile avere i più bravi chef, i migliori prodotti se poi è un qualcosa che rimane solo a pochi addetti. Noi dobbiamo far condividere questi valori, queste esperienze attraverso il web, attraverso la condivisione gestendo i nostri clienti prima che arrivino nei nostri locali durante il loro soggiorno e non a caso stiamo pensando anche di formare il cameriere smart, il cuoco smart che possa condividere l'acquisto del prodotto, il taglio, il cucinare come valore da condividere appunto online.